signori miei cari buonasera a tutti quanti siamo radio web 2000 la radio che fa musica su web stasera abbiamo la partecipazione ve lo dissi che ve lo portavo il maestro il grande un mito è di napoli buonasera a tutti amici di radio web 2000 la radio che fa musica partenopei noi siamo tutti partenopei facciamo ancora parte del nostro grande regno è stato un grande regno ed è ancora un grande regno dove lui si ci vuole io ci ho sempre qualcosa presso invece del fazzoletto io mi appresso questo perché noi non riprendiamo mai le nostre un stemma borbonico come per esempio rosi che belli rosa però questa l'ascoltiamo su su radio web 2000 quando ti venga a trovare prossimamente imminente ci sarà uno speciale con la partecipazione live sì ma proprio con tutto il cuore e con tutto il piacere per incontrare i nostri amici giuliano innanzitutto e poi tutti gli amici del web che ci seguono in tutto il mondo perché oggi il web è quello che spavola siamo tutti più vicini perché appunto me lo dicevi tu prima e voglio dire con la comunicazione via web possiamo interruggire con tutto il mondo in tempo reale cosa che non è per niente facile va beh intanto dal palapartenope e dopo ci ascoltiamo live la bellissima voce di eddie napoli con amiello misto e tanti altri amici stasera ci sono davvero tanti amici dei bravissimi musicisti come c'è anche giovane russo parlavo prima con il nostro amico percursionista c'è il nostro amico percursionista che poco fa Gio Merolla Ciccio Merolla chi c'è ancora ci sono tanti tanti sarà una sorpresa poi se lo scoprirete voi ci vediamo ciao ciao